Ciao e benvenuto al video post elaborazione professionale incontro vitality, i due video di una serie preparazione professionale incontro vitality e svolgimento professionale incontro vitality che sicuramente hai già visto, di cui questo è l'ultimo tassello per costruire veramente in modo professionale e con successo la tua attività forever per mezzo degli incontri vitality. Questo video riguarda la post elaborazione professionale di un incontro vitality, ti consiglio di mettere momentaneamente in pausa questo video e di procurarti carta e penna e un buon bicchiere di forever aloe vera gel in modo che tu possa concentrarti e prendere appunti importanti, quindi iniziamo. Il tuo incontro vitality si è concluso con successo, con molto buon umore e molte ordinazioni, così come una bella lista colma di nuovi contatti. Vi siete salutati e hai ringraziato il padrone di casa ed è proprio qui che per te ha inizio la post elaborazione. Non appena ti siedi in macchina, prenditi un momento per passare in rassegna l'incontro vitality appena concluso. Prendi subito nota di questi momenti per non dimenticarti di nulla che eventualmente potrai utilizzare come autocritica costruttiva. Cosa è andato particolarmente bene? Quali domande ti sono state fatte? C'era una domanda alla quale avresti potuto essere più preparato e della quale vorresti discuterne con il tuo sponsor? Com'era l'atmosfera generale? Sei riuscito a tenere il filo del discorso? Porsi queste domande è molto importante. Puoi prendere anche importanti appunti per ricordarti, come ad esempio la data, l'orario, argomento dell'incontro vitality, il padrone di casa e così via. Questo è fantastico, così dopo alcuni incontri vitality potrai avere un tuo archivio di post elaborazione che sarà sempre utile. Ti aiuterà a capire se questo o quell'incontro vitality ti sono piaciuti più di altri. Se rispondi di sì, hai avuto successo e soprattutto sei onesto e autentico. Questa è sicuramente la chiave per il successo della nostra attività forever. Quando hai concluso il tuo riassunto dell'incontro, prendi l'elenco dei partecipanti e aggiungi una piccola nota accanto al nome di ciascuno di loro. La signora Rossi era la signora che... Questo ti aiuterà a ricordarti meglio la persona dopo un paio di giorni. Ad esempio, la signora Rossi era la signora che si è seduta direttamente alla mia destra ed era la signora con i capelli corti. Mi ha detto che il figlio gioca molto bene a calcio e sabato prossimo gioca la sua prima partita importante. La signora Foletti era la giovane signora bionda, molto ben curata, che ama molto fare yoga. La signora Galli era la signora un po' in età, molto interessata alla storia dell'aloe vera e faceva molte domande e così via. Scrivi tutto quello che ti ricordi degli ospiti. Questa rielaborazione è molto, molto importante. Ora ti spiego il perché. Naturalmente la puoi fare anche quando arrivi a casa o il giorno dopo. La mia esperienza mi dimostra che più velocemente prendo appunti, meno facile dimenticare i dettagli importanti. In questo modo non vanno persi. Mi sono abituata a farlo direttamente in macchina. Questo aggiunge circa 30 minuti al tempo totale dell'incontro Vitality. A casa vieni spesso distratto dalle cose di tutti i giorni, dai bambini che ti stanno aspettando, eccetera, eccetera, e vai subito fuori tema e ti dimentichi. Se fai questa rielaborazione direttamente in macchina o sui mezzi pubblici, quando arrivi a casa puoi effettivamente staccare la spina per un momento e concentrarti per un eventuale nuovo appuntamento per un incontro Vitality. Ora, perché questa rielaborazione è così importante? La maggior parte degli ospiti che hanno partecipato hanno sicuramente ordinato dei prodotti. Hai già concordato con il padrone di casa e con gli ospiti come e quando riceveranno i prodotti ordinati? Tutte queste procedure le abbiamo già discusse nel video Svolgimento professionale incontro Vitality. Ora, l'importante è il nostro lavoro. Io preferisco chiamarlo supporto, non è ancora finito. Quello che vogliamo ottenere sono clienti soddisfatti e persone che a poco a poco utilizzano la gamma completa dei prodotti Forever, in modo da poter beneficiare a pieno della meravigliosa efficacia dei nostri prodotti e raccomandare i prodotti ad altre persone. Così possono iniziare a costruire la loro propria attività con Forever. Poiché la nostra attività è un'attività di persone, per le persone, con le persone, dunque è un'attività relazionale, costruire relazioni e fiducia. I prodotti poi faranno il loro lavoro. Ora, dobbiamo instaurare la fiducia e la relazione. Questo riesce al meglio con onesto interesse per le persone. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli appunti che hai premurosamente preso. Hai concordato con gli ospiti quando li chiamerai nuovamente per rispondere alle domande che potrebbero essere sorte dopo l'incontro, come hai visto negli altri video. Questa telefonata può essere fatta il giorno successivo, ma non più tardi di due o al massimo tre giorni. Va da sé che così mantieni l'impegno della telefonata e dell'orario prestabilito e questo dimostra il tuo interesse al cliente e alle persone. Quindi ricordati di pianificare sempre del tempo, per questo ne abbiamo parlato nel video Preparazione professionale incontro Vitality. Dai un'occhiata ai tuoi appunti prima di chiamare la persona, in modo da farti tornare in mente il tutto. È veramente una bella cosa e distaura un buon rapporto. Ad esempio così. Salve signora Rossi, sono Pia Kaufman di Forever, si ricorda? Martedì scorso ci siamo conosciute all'incontro Vitality, dove ha potuto provare la nostra meravigliosa maschera in tessuto. Le avevo detto che l'avrei ricontattata oggi. Signora Rossi, ah sì, salve Pia. Io, salve. Mi chiedevo come ha sentito la sua pelle dopo la maschera e inoltre mi chiedevo come era andata la partita di calcio di suo figlio. Queste piccole attenzioni fanno sempre bene e danno ai clienti, ma anche a te stesso, una buonissima sensazione. Dopodiché lascia che la telefonata scorra. Chiedi se ha delle domande, se è personalmente interessata ad ospitare un incontro Vitality. A volte la conversazione si dirige direttamente verso l'opportunità di un'attività con Forever. Oppure si pianifica un incontro personale con il cliente per consigliarlo individualmente sui nostri prodotti. Tutto è possibile, anche se la telefonata non comporta un nuovo appuntamento. Il che va anche bene. Segnala la tua disponibilità a contattarti o a contattare nuovamente il cliente telefonicamente. Chiedi se ha avuto modo di provare i prodotti che ha ordinato. Puoi rispondere in modo individuale alle esigenze e richieste dei clienti perché Forever è anche questo, una consulenza professionale e personalizzata. Chiedi quali sono gli interessi, riconosci le esigenze e offri soluzioni appropriate. E ora non mi resta che augurarti molto successo e divertimento con gli incontri Vitality di Forever. Tanto successo e simpatia. Tua Pia Kaufman.